Oh, eccoci qua, buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra 85esima live del podcast di Psynel dedicata al Natale. Buon Natale a tutti, o meglio, buona vigilia di Natale, perché nella nostra data in questo esatto momento siamo nella vigilia di Natale 2020, uno dei Natali più incredibili della storia moderna della nostra società. E chi è qui in questo momento, chi arriverà tra poco in diretta, se qualcuno si sposterà, visto che oggi è una giornata un po' particolare, sa bene che cosa sto dicendo. Se invece tu stai ascoltando questa puntata in un momento, in un periodo diverso della storia del genere umano, a, diciamo così, a pandemia terminata, probabilmente sarai curioso di sapere come si sentivano le persone nel bel mezzo della pandemia moderna che sta modificando gli equilibri mondiali, li sta modificando in modo molto particolare. E intanto buongiorno l'ACMA, ben tornata, buongiorno Vale, buongiorno Valentina, buongiorno Matteo, buona vigilia a te, a tutti gli psinellini, grazie Valentina. Eccoci qua, oggi credo saremmo pochi ma buoni, fatemi sentire se mi sentite, fatemi sapere se mi sentite, spostiamo un po' di casino, eccoci qua per la prima volta in diretta, quindi ancora meglio, grazie Matteo, benvenuto. Ciao Marco, ieri non sono stato in diretta su Instagram, ti faccio un in bocca al lupo qualche stessa cosa, ok, grazie Marco, puoi sentire il tutto su Telegram. Buona vigilia a tutti, buona vigilia a tutti. Ti sento bene, grazie Francesco, saluti, ti sento forte chiaro, grande Luca, ormai, ciao Mario, ormai Luca, grande colonna portante delle nostre live del giovedì mattina, buongiorno Camilla, anche lei, anche Valentina in realtà, siete un po', c'è un po' un gruppo che ormai di persone che riconosco e che ringrazio per tutto l'anno, per il fatto di venire qui, la mattina, di giovedì mattina, qualcuno di voi magari scappa anche durante il lavoro per ascoltare pezzi della nostra chiacchierata, per cui davvero meraviglia, meraviglioso, grazie mille, grazie sono commosso, grazie a te Luca, grazie Daniela, grazie Andrea, buongiorno Andrea, buongiorno Daniela, ecco, buongiorno a tutti. Allora, allora, parliamo un pochettino di ciò che stava accadendo poco fa, perché è davvero difficile discutere di certi argomenti di crescita personale. Vedete, la crescita personale ha sdoganato la psicologia, è stata una meraviglia, sono contento di far parte di questo movimento, cioè del movimento che verrà ricordato nella storia come la creazione di una pop psicologia, così come esiste, probabilmente qualcuno di voi già lo sa, esiste una pop filosofia, si sta delineando l'idea di una pop psicologia e questa pop psicologia è traghettata dalla crescita personale. Un po' perché la crescita personale negli anni 90 si è dovuta rendere conto di una cosa che qua su Psynel, e anche qua spero di aver dato il mio piccolo contributo, diciamo da sempre, cioè che non esiste crescita personale scollegata dalla psicologia. La crescita personale, tutto quello che avete letto di Anthony Robbins, della PNL, dei vari formatori alla vendita, alla motivazione, allo sport, al cinema e quant'altro, rientra tutto nella psicologia, perché è psicologia anche a livello concettuale, no? Anche se tu, mettiamo, facciamo un esempio classico, tu scrivi un libro di storia della storia del palazzo dove vivi, scrivi tutto, scrivi in che epoca è stato fatto, l'architettura, in che modo, la storia delle famiglie che ci sono dentro. Anche se tu non lo vuoi definire un libro di storia, quello lì è un libro di storia. Così, se tu vuoi parlare della psiche umana e ci metti dentro delle teorie che riguardano il comportamentismo, il cognitivismo, la psicoanalisi, l'ipnosi, la sistemica, palo alto, tutto quello che vuoi, anche se tu dici che non è psicologia, è sempre psicologia. E ne parliamo di fronte di liberazione della psicologia. Bravo Luca, esattamente. Grazie a te, Genna, ti seguo ormai da quasi un anno e ho imparato tantissimo da te, dalle bellissime discussioni che ne venivano fuori. Grazie mille, Valentina. Buongiorno, Frenchi, buongiorno, Patrizia. Ciao, Genna, puoi dirci qualcosa di più su questo periodo? Si cominciano a sentire gli effetti psicologici, coppie che si sfasciano, depressione. Sì, adesso ne parliamo. Questo tema, però, è più grande e più importante. Mi ha preso a cuore quando prima abbiamo parlato della psicologia evolutiva di Giulio Cesare Giacobbe. Sì, perché dovete sapere che discutere di certi argomenti quando la cosa diventa molto pop è che per me è importante che le cose diventino pop, perché la gente, cioè non esiste una cultura scollegata, cioè smettiamola di pensare che l'autore più figo è l'autore non letto di polacco. Vi ricordate la descrizione di Aldo Giovanni e Giacomo quando dice, eh, sicuramente gli starà parlando di un libro di un autore russo-polacco scomparso-suicida a trent'anni, no? Come per dire una cosa così di nicchia che fa figo, no? Quando suonavo era così. Ah, le hai sentiti quel gruppo nascosto che suona solo nelle cantine di nascosto. Ecco, quella roba lì per la cultura non solo non funziona, ma è controproducente perché spacca il mondo in due, spacca il mondo in elitari, persone che sanno, che possono accedere alle informazioni perché hanno una certa cultura e invece dall'altra parte persone che non potranno mai arrivare a comprendere quelle cose. Ovviamente ci vuole una bella via di mezzo perché? Perché? Perché per discutere di certe cose e bisogna avere certe basi. Quindi quando io liquido un discorso perché dico che è troppo complesso, non lo faccio perché non ho voglia di parlarne, ma perché davvero è troppo complesso. Cioè adesso stare a spiegare al ragazzo di prima la differenza che c'è tra la psicologia evolutiva, la psicologia evoluzionistica e quella che viene chiamata psicologia della crescita, potremmo chiamarla così, mi ci vuole un'ora e quindi è inutile che mi metti, dice ho letto, guarda io ho letto questo, ho letto questo, ho letto questo e ho capito questo. Ok, in realtà dovresti conoscere perché di ognuno di quelle letture. Con questo nuovamente non significa che solo chi sa tutto abbia la verità in tasca e chi non sa nulla non possa creare un'idea innovativa in un determinato campo. Succede, succede tutti i giorni. Tuttavia, insomma, prendere due o tre informazioni qua e là e non so, e non ascoltare chi magari ne sa un po' più di noi è un grave errore da quel punto di vista. Io quando parlo con un ingegnere sono molto felice, o con un filosofo, o con qualsiasi altra persona che abbia una cultura diversa dalla mia, però dove io ho un po' i piedi, come ad esempio nella filosofia, quando parlo con Riccardo Dalferro, io sono felicissimo perché io ho un po' la mia infarinatura personale, fatta male, fatta da solo, e quando ho un dubbio gli dico, ma è davvero così? Ma spiegami, Eric, ma questo mito della caverna che è sulla bocca di tutti, ma davvero significa questo? E Riccardo mi dà una spiegazione approfondita di questo, però io già conosco il mito, già conosco la struttura che ci sta attorno e Riccardo va, diciamo così, in verticale. Vabbè, beviamo un goccio di grappa, che è ovviamente acqua, e poi rispondo alla domanda di Frenchi. Se avete delle domande, ragazzi, oltre a farci gli auguri, domandate pure. Ciao Dorian, auguri anche a te. Ciao Jenna, puoi dirci qualcosa in più su questo periodo? Si cominciano a sentire gli effetti psicologici. Allora Frenchi, essendo poco ottimista, essendo poco ottimista, diciamo così, in questo periodo, cioè se uno vuole essere poco ottimista, ecco, mettiamola così, questo è un periodo che porterà tanti sconvolgimenti a livello psicologico. Questa è la prima volta nella storia che il genere umano viene rinchiuso in casa per così tanto tempo. All'inizio pandemia ho fatto degli audio, tra l'altro anche fin troppo ottimistici, vabbè, era inizio pandemia, dove parlavo degli effetti psicologici segnati sul Lancet, o meglio, rilevati dal Lancet per una meta-analisi, cioè messa insieme di più studi su questo stesso argomento, di una pandemia che non aveva superato i nove giorni, o meglio, scusate, di un lockdown che non aveva mai superato i nove giorni e, nonostante fossero nove giorni, ha avuto un effetto potente sulla psiche delle persone. Tuttavia, dall'altro lato, dobbiamo pensare che esiste la famosa crescita post-traumatica, cioè pensate al boom economico italiano. Quando è avvenuto? Al termine della Seconda Guerra Mondiale. Certo, non subito, ma perché? Perché dopo un periodo nero abbiamo il desiderio, la voglia, la forza, la resistenza per voler qualcosa di nuovo, qualcosa di più grande, qualcosa di migliore. Per cui, per quanto mi riguarda, questo periodo, e soprattutto guardando un po' lontano, da qui a qualche anno probabilmente, non porterà solo tante problematiche psicologiche che porteranno la popolazione a sensibilizzarsi. Ed è stato così anche per la psicologia. La psicologia è diventata davvero rilevante al termine della Seconda Guerra Mondiale. L'ACMA. Come combattere la paura di dare esami all'università? Potrebbe essere inconsciamente un non voler affrontare le proprie responsabilità? Non lo so. Non lo so se inconsciamente potrebbe significare quello. Significa che ti fai troppe seghe mentali. Nel senso, uno dice, no, ma come come dice seghe mentali, ti dico che ho paura? Eh beh sì, perché hai paura? Perché probabilmente dentro di te puoi aver paura per due motivi. O perché hai preso troppe facciate in quel contesto, quindi sei traumatizzata dall'esame universitario, è stata bocciata 30 volte quell'esame e non hai più voglia di studiarlo, ti è passata la voglia di affrontarlo. Oppure perché sei nella tua testa a chiederti, ma so tutto, sapro tutto, devo sapere tutto? Quindi l'unica cosa da fare, l'ACMA, è farli, farli, farli studiare, prepararli e andare. Mettiamo così, se la Seconda, l'ACMA, vai ad un esame senza studiare, ok? Ovviamente ti preparerai a essere bocciata, ma vai ad un esame senza studiare. E se questo è il tema, quando è finita la nostra diretta vai su Google e scrivi paura di sbagliare, anzi aspetta che te lo cerco, anzi no, non posso cercarlo perché non ho la tastiera in questo momento. Ecco, un buon esempio è quello di Matteo Gavioli, scusami, che ringrazio, che ha scritto mi sono regalato dall'ansia alla serenità. Non crediate di dover aver, di dover aver avuto sensazioni di ansia intense. Dall'ansia alla serenità è un ottimo corso anche per chi ha timori nell'affrontare determinate cose e che questi timori lo conducano ad avere seghe mentali, ansia, preoccupazioni. È meglio ancora dall'ansia alla serenità di Emotional Freedom. Emotional Freedom funziona bene se avete un problema o volete migliorare la gestione di tutte le vostre emozioni, ma se volete gestire le preoccupazioni per il futuro, in qualsiasi ambito, dall'ansia alla serenità è sicuramente la scelta migliore. Quindi grazie Matteo. Ciro, buongiorno, auguri anche a te. No, tranquillo, non sei ritardissimo, siamo un po' in ritardo, anche se la diretta di oggi terminerà presto, quindi verso le 11 e qualcosina termineremo. Buongiorno Alessio Auguroni, auguri anche a te. Buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti, auguri. Gianna, credi che l'Oriente, questa pandemia, l'affronti in maniera migliore visto il loro pensiero più spirituale? Ma Marco, io credo che l'affronti in maniera migliore visto che loro sono abituati, sono abituati al distanziamento, sono abituati alla mascherina, sono... e poi un altro piccolo questione, una piccola questione, ragazzi, pensiamoci. L'Oriente, soprattutto mettiamo l'aspetto dove è nata questa pandemia, quindi per non dare una collocazione che non voglio, non sono delle vere repubbliche. Cioè, se il governatore di una provincia orientale, ok, per non dare collocazioni, ok, cinese, mettiamo, dice che quel paese lì va sgombrato, quel paese lì viene sgombrato con la forza, c'è una dittatura, cioè quindi, capite, ok, da oggi non ci si sta più vicini, non si fa i furbetti, non si scherza, non sto dicendo che la soluzione sia la dittatura, ma sto dicendo che questo aspetto, mi sembra, questi due aspetti, i tre aspetti che ho detto, il fatto che loro siano abituati a tenere la mascherina, il distanziamento sociale e siano già stati colpiti da altre pandemie in tempi recenti, come la SARS, sicuramente questa cosa qui, unita al fatto che siano una dittatura, credo che valgano di più dell'aspetto spirituale, ma molto di più. E già questo ci mostra la confusione che ci può essere in occidente. La confusione di dire, guarda, guarda quello, guarda quelli che bravi che sono lì e sicuramente perché tutti meditano, no, oppure perché tutti quanti, hai capito, credono, non hanno perso l'aspetto spirituale, no, mi sembrano davvero bullshit queste. Io sto disegnando, eccetera, tante cose che davo inutili e alla fine mi piacevoli, davo per inutili, ma alla fine è piacevoli, fai bene. Patrizia, ci sarà una evoluzione di molte cose e nuovo modo di guardare, fare tante cose diverse da prima. Ci si scontra anche con problemi che avevamo sottovalutato. Io lo spero, anche io. Cristian, Cristian mi scrive, ciao Genna, secondo te va bene fare l'università di psicologia a 22 anni? Io sono stato ultra ripetente come te, Cristian, e ho iniziato a 21 anni, per cui direi che si può fare. Genaro, ho bisogno di un'indicazione di uno psicoterapeuta per motivi personali. Ti direi scrivimi, ma no, non scrivermi perché farei fatica a risponderti. Per cui se vuoi io posso darti delle indicazioni di psicoterapeuti, ma non posso diagnosticarti e mandarti da una persona. Non so se riesco a spiegare. Prego la seconda opzione. Ok. Non credo di aver superseghe mentali. No, 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 Matteo, no, non parlavo con te, partavo, parlavo con, rispondevo all'ACMA attraverso il fatto che tu avessi appena scritto di dall'ansia alla serenità. No, 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 beh, l'ansia può anche essere priva, tra virgolette, di seghe mentali, però diciamo che è una sua caratteristica. Grande, Andrea, vorrei darti dei soldi. Hai qualche altro corso disponibile oltre... no, l'hai presi tutti, caro, sì. No, forse MMA, forse Master in Meditazione. Mi, già 85 live. Eh sì, ne abbiamo fatto tante, ragazzi, 85 live. Esatto, facile gestire le pandemie con le dittature degli altri e questo è, secondo me, questo è l'aspetto più importante. Non so se avete visto all'inizio pandemia cosa hanno fatto, hanno portato via le persone di forza, di cattiveria. È stata una roba assurda, ma ragazzi, noi forse dobbiamo pensare un po' meno dietrologisticamente che fosse una roba... Ma sì, guarda, sono cinesi, figurati se è vero che portano via le persone di... C'erano persone che svenivano per strada a inizio pandemia. Io ho regalato facci caso a mia madre per Natale insieme al Kindle. Grazie, Andrea. Spero di iniziarla alla psicologia, ma già stamattina ogni tanto ascolta la tua live. Grazie, Andrea. Ciao, mamma di Andrea. Patrizia, dittatura che li ha resi più obbedienti, ma anche dove non c'è la dittatura sono obbedientissimi rispetto a noi. Sì. Tra l'altro, ecco, forse un altro aspetto, Marco, per rispondere sempre a Marco di prima, che forse è vero, non ho preso in considerazione, il fatto che loro hanno una mentalità più collettivista che non individualista. Noi occidentali siamo più individualisti, ok? Si salvi chi può, ognuno pensi per sé, e loro invece hanno una mentalità più collettivista. In realtà bisognerebbe trovare una bella via di mezzo, perché l'individualismo non esiste. Pensate, il paradosso dell'individualismo e del collettivismo è questo. E' molto bello, questa l'ho sentita raccontare dal professore di filosofia Luciano Floridi, il quale dice che quando l'individualismo... Perché possiamo essere individualisti? Perché possiamo illuderci di poter fare tutto da soli. Ci vuole un certo benessere per essere individualisti. Cioè, per essere individualisti bisogna fare in modo di poter camminare per le strade senza che nessuno ci uccida, di fare in modo che qualcuno porti al supermercato del cibo. Capite che c'è già qua un piccolo qualcosa che stride, no? Portare al supermercato del cibo e quant'altro. Mentre se queste cose non ci sono, un villaggio povero deve necessariamente collaborare, cooperare, coordinarsi per riuscire a fare qualche cosa. Quindi serve necessariamente del collettivismo. Quindi ciò che sostiene l'individualismo è un lavoro di cooperazione collettiva. E noi ci dimentichiamo di questo. Cioè, l'estremo benessere ci fa dimenticare che in realtà siamo esseri collettivi. Per cui in modo collettivo, se non l'hai ancora fatto, metti mi piace a questa puntata. Che mi aiuta. Capite? Che ci aiuta. Cioè, quindi il collettivismo, tra virgolette, sostiene l'individualismo. Questa idea, questo non significa che l'individualismo non esista e sia scorretto. È giusto pensare anche a sé e non pensare solo agli altri. È giusto anche perché quando ci perdiamo nella folla, come aveva già detto Le Bonne ormai due secoli fa, diventiamo un po' più stupidi. La folla non è intelligente quanto l'individuo, da un certo punto di vista. Insomma, è un discorso molto bello, ma fermiamoci. Allora, forse mi sono perso qualcosa. Ah, ok, va bene Aurora. Allora, se vuoi io ti do indicazioni psicoterapeutiche, Aurora. Con molta... 70 perché ultimamente... Quindi questo non è il contesto giusto, però se tu mi scrivi, magari tra un po' di tempo ti rispondo. Che ho passato io qualche anno fa. Ah, ti ringrazio, Lobby. Ah, identico. Incuitantemente identico. Ok. Allora, caro, capisci, ti ringrazio. Enrico. Buongiorno Gianna, argomento off topic, la meditazione aiuta l'asma allergica? Sai che non lo so, Enrico. Non lo so se ci siano studi. Ah, grande Christian che è tornato con la domanda sulla PNL. Aspetta che arrivo. Allora, domanda di prima su IG. Genna, ha senso comprare libri di psicologia a PNL anni 70-80? Se oggi ci sono nuove informazioni, come dicevi nella puntata sulle comunicazioni su Psynel, si ha molto senso, perché in realtà noi ci basiamo sulle cose vecchie. L'importante è ricordarci che alcuni stili di comunicazione, alcuni aspetti di quelle comunicazioni lì, non hanno, non so come dire, mettiamo il caso della PNL. Quando, se, forse Bandler continua a dire minchiate, cioè come ad esempio che puoi curare una persona in 5 minuti, che quando la PNL sarà nelle mani della gente non ci sarà più bisogno della psicologia, nonostante continui a confondere il lavoro di psicoterapeuta con il lavoro di psicoanalista, ok, tra l'altro dimostrando tutta la sua ignoranza in questo ambito, ma lasciamo, chiudiamo la parentesi, ecco, e nonostante non abbiano mai conosciuto dal vivo il loro maestro che affermano, insomma, Milton Erikson, insomma, capite, tutte queste cose qui le dobbiamo prendere come anedottica, anedottica di quel mondo, come marketing, leggerlo come marketing, nonostante questo, dicono molte cose interessanti, quindi è sempre così, quando leggo un libro di un saggio religioso, di un monaco religioso, è ovvio che io non sto lì a discutere sul fatto se è vero o non è vero che durante una notte è stato chiamato dal diavolo, oppure che durante quella meditazione lì è uscito dal suo corpo e ha parlato con una divinità hindu. Io lo leggo perché quel contenuto lì ha delle cose interessanti, ad esempio potrei leggersi autobiografia di uno yogi, non è una brutta lettura, però, di nuovo, non significa che alla fine di quella lettura io debba credere a tutto ciò che racconta, cioè a tutte le cose che se voi l'avete letto sapete. Cosa intendo? Che è chiaro che se vuoi leggere cose scientifiche, Christian, devi leggere gli articoli scientifici, che sono noiosi, non hanno un'indicazione, non è che alla fine dell'articolo c'è il scientifico, c'è scritto ok, devi fare così la tecnica, cioè non c'è la formazione nell'articolo scientifico, però l'articolo scientifico ti dice che cosa è stato messo alla prova, che cosa di quei libri vecchi non ha tanto senso, tra virgolette. Quindi segui, leggi pure i libri degli anni 80, 60, 50 e anche più vecchi. L'importante è che tu li legga sapendo che sono libri vecchi. Se li leggi con quest'ottica qua troverai tante cose interessanti, tantissime cose interessanti. Se uno legge assaggioli, resta a bocca aperta di quanto sia moderno. Se uno legge Freud, resterà a bocca aperta. Soprattutto chi di voi odia Freud, ma non l'ha mai letto, dovrebbe leggerlo, sempre ricordando che è figlio del suo tempo, che ciò che dice sono ipotesi, che eccetera eccetera. Quindi è una bella domanda la tua Cristina. Spero di aver chiarito un po'. Ecco, vedi, la domanda di Emanuela è ben diversa dalla domanda che ha fatto prima... Dove, 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 dove? Aurora. Genna, all'anno nuovo vorrei iniziare ad andare dallo psicologo a causa di una difficoltà a capire cosa fare della mia vita. Continuo a passare da un campo all'altro, sia di studio che di lavoro. Voglio cercare lo psicologo con molta attenzione. Quale orientamento, approccio mi consiglieresti? Allora ragazzi, in realtà l'approccio, soprattutto per i primi incontri, non fa una grossa differenza. Io consiglio a tutti sempre degli approcci brevi, ok? Io consiglio a tutti degli approcci brevi, perché ho cognitivo comportamentali. Quindi, approccio cognitivo comportamentale, approccio sistemico, ipnotico, terapia strategica breve, focus oriented therapy. Quindi, queste terapie, perché? Perché di solito hanno degli strumenti più rapidi che vi fanno capire prima che cosa sta succedendo. Però questo non è... questo non significa che non potreste trovare grande giovamento nell'andare da un approccio non breve, quindi da uno psicodinamico, da uno che è tendenzialmente più sulla psicoanalisi che sulla psicoterapia. Cosa servirebbe a noi occidentali che hanno in oriente? Non lo so. Il sole? Devo allontanarmi per venti minuti, tranquillo Francesco, la registrazione. Resta qua la registrazione. L'illusione del libero arbitrio è un tema che hai accennato che mi piacerebbe approfondissi. E' bellissimo, Luca. Lebori? Lebori si chiama quello del libero arbitrio. E' sapete che il tema del libero arbitrio è una roba affascinantissima. Anche se bisognerebbe... Ogni parola che sto per dire in realtà non è determinata in modo consapevole da quella parte di me che potrei determinare come consapevolezza intenzionale. Perché in realtà ogni parola che sto per dire è stata decisa prima che la mia aspetto cosciente sapesse di dirla. E quindi la sto dicendo io? O perché la sto dicendo? La sto dicendo in reazione ad un evento esterno o in computazione di un mio meccanismo mentale? E qua apremo una valanga di cose, Luca. Come ad esempio lo stimolo-risposta esiste? Esiste. Cioè la teoria più antica della psicologia, fisiologica, la famosa teoria di Pavlov, del condizionamento, stimolo-risposta, è davvero così? Oppure noi in realtà dopo un po' di tempo non badiamo più gli stimoli esterni e tendiamo a rispondere sempre nello stesso modo? È una roba... Un po' il discorso che faceva Rari sulla funzione dello Stato. Sì, Loana. Esatto, Gianna. Anche il mio pensiero è nella via di mezzo dell'equilibrio delle due mentalità orientali e occidentali. Sì, ci sta. Sono sempre esseri umani. Ciao, Simona. Io credo che nessuna dittatura ha mai portato il bene di un popolo. Si pensi a Cuba, vista del turista al paradiso, ma la popolazione è tenuta in povertà. Ma sono assolutamente d'accordo, Ciro. No, ma infatti era solo... Era la mia, era una risposta al perché sembra che abbiano preso meglio la pandemia in quei luoghi lì. Perché se lì, visto che la soluzione migliore alla pandemia è il distanziamento sociale, la prescrizione migliore è il distanziamento sociale, diciamo che se c'è una dittatura fai un po' prima a distanziare le persone. Ecco, per quello che non significa, in momenti di crisi a volte il pugno duro funziona meglio all'inizio, ma alla fine ovviamente no, non può funzionare meglio. E anzi, ed è per questo che abbiamo la nostra ala partitica spinta in quella direzione lì, nella direzione dell'uomo forte al comando, del quale anch'io come te, Ciro, non sono per niente d'accordo. Ma allora mi sono persa. Ciao, Simona. Seguivo quella che pensavo essere una live su Facebook fino a cinque secondi fa e tu sei qui da 22 minuti. Oddio, che flash. Si vede che non ti dà, perché Facebook ti dà l'illusione di essere live costantemente. Grazie Alberto, per la prima volta riesco ad essere live, ho messo subito mi piace. Ragazzi, vedete, Alberto qua per la prima volta e ha messo mi piace. Seguiamo tutti il suo buon esempio. Grande, io il primo approccio con la psicologia li ho avuti con libri di Oliver Sacks, quindi l'ha avuto più sulla neurologia, che però ovviamente Sacks parla anche di psicologia. Sacks, per chi non lo sapesse, è quel neurologo che ha scritto il libro fantastico l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Ciao Anna. Ciao Stefano. Buongiorno. Il mio psicologo critica l'approccio psicodinamico perché non è scientificamente fondato. E sì, anche io sono d'accordo con lui. E afferma che in questo senso l'approccio cognitivo comportamentale è di gran lunga più sensato ed efficace. Che cosa ne pensi? Che sono d'accordo con lui. Allora, io credo che l'approccio psicodinamico ovviamente non sia una cavolata. Esistono tanti approcci psicodinamici, Stefano. Molti, anche efficaci, come ad esempio per il disturbo di personalità, l'approccio di Otto Kernberg funziona molto bene. O la ISTDP funziona bene. Dicono, quella di Manlaho, Danlaho, si chiama così? Insomma, esistono degli approcci psicodinamici che sono efficaci. Tuttavia, l'approccio classico psicodinamico, cioè la psicoanalisi, come approccio psicoterapeutico, oggi io non lo consiglierei a nessuno. Ok? Un po' per i motivi che dice il mio collega. Ok? Sono completamente d'accordo con lui. E' un po' perché c'è una brutta deriva, ragazzi. La deriva è che quando scopri che le tue tecniche non funzionano, te le inventi. Vai a pescare stronzate in giro. Ma voi non avete idea di quante ne ho sentite io. Vabbè, ma questo non è un problema della psicoanalisi, è un problema dei furboni. Ok? Ve l'ho già raccontato, ma sapete che tristezza sapere che in un posto, vabbè, non posso fare troppi riferimenti, ma un giorno arriva da me una ragazza che in realtà era stata mandata da una sua amica, che era venuta da me, che era stata mandata da una sua amica, un insieme di amiche adolescenti che anni fa trattai. che viene da me e mi dice, guarda, io sono andata nel tuo studio, ma io questa la dico tanto, sono andata nel tuo studio e niente, perché pensavo ci fossi tu, e invece ho trovato questa donna, una tua collega, psicodinamica, ok? E poi a un certo punto però era un po' strana, perché lei mi diceva che da lontano mi curava da lontano. E io, in che senso ti curava da lontano? E nel senso che da lontano, con delle tecniche energetiche, e io ho detto, sai quelle cose lì, tecnicamente per il mondo della scienza, si chiamano stronzate, si chiamano stronzate. E niente, allora ho preso l'agenda degli psicologi del Veneto, che da quest'anno non danno più, grazie, e ho preso il codice deontologico dello psicologo e gli ho fatto vedere che c'è scritto lo psicologo si impegna ad utilizzare strumenti che sono stati validati dall'evidenza sulla ricerca scientifica. No, curare le persone a distanza con le energie magiche non fa parte della psicologia. E questa però è una tendenza, ragazzi, che io ho visto tante volte, dove c'è mancanza di formazione, mancanza di ridiscussione. Così come ho conosciuto psicoanalisti che invece si sono completamente reinventati, hanno fatto corsi di ipnosi, di M, di R, di meditazione, ok? E così come ho conosciuto psicoanalisti che invece si sono dati, capito, per la tangente. E ovviamente questa cosa vale per tutti, per tutti gli psicologi. Se tu non riesci a curare la persona con la tua formazione qualcosa non va bene. C'è qualcosa che non va. Buone feste, psinellini. Ciao, Anna, ancora. Mettete mi piace. Questo è un saluto di rapidità. Grazie. Buon Natale a tutti. Ancora grazie, Gianna. Grazie, Diego. Lobby, questo è un bel libro sul tema neuroscienza e del libro arbitrio del 20. Ah, figo. Gli autori. Ah, siamo davvero liberi? Neuroscienza e mistero. Sì, 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 sì. Figo, fighissimo. Non so chi me l'aveva consigliato già questo libro, ragazzi. Gianna, sei stato illuminante. Ho comprato anche La mente liberata dell'acto fantastico di Ais e i libri di Nardone per capire anche le differenze con gli anni Ottanta. Consigli altri libri di psicoterapia moderna? Ma ce ne sono tantissimi, ragazzi. Ci sono tanti approcci interessanti. Anche l'MDR è un approccio interessante, anche se è completamente diverso da tutti gli altri. Genna, ma non puoi parlare col tuo editore per far mettere Emozionale Freedom? In che senso, Diego? Intendi c'è Emotional Freedom, ragazzi? Adesso sì. Adesso parlerò con i ragazzi di SPS e gli chiederò come cazzo è che tutte le volte che qualcuno sta per comprare Emotional Freedom c'è qualche problema. No, adesso scherzo. Sono bravissimi. Senza di loro non saprei come fare. Però, se non sbaglio, nei podcast ci dovrebbe essere il link diretto Emotional Freedom. Adesso mi faccio dare i link. Genna, so che non dovrei, ma ti chiedo un favore personale. fa uscire un tuo libro anche per il 2021. Grazie, grazie Simona. Aspetta, sul tema del libro arbitro è molto carino anche l'ultimo video di Micco Delli. È vero, però non so se è l'ultimo. Anche io non trovo Emotional Freedom. Ok, allora. In diretta. In diretta. Lo mando. Buongiorno ragazzi. In realtà sono in diretta su Spreaker, anche se poi so che Giuseppe è bravissimo quindi magari starà ascoltando anche qui e ci sono un po' di persone che vorrebbero avere un link diretto a Emotional Freedom del tipo clicco, mi arriva il pulsante clicca qui per pagare e compro Emotional Freedom. Quindi, quindi ecco, aiutatemi a chiedere questa cosa perché c'è tanta gente che ci sta chiedendo questa cosa. Grazie mille. No, invece devi Simone io ragazzi ve lo dico ve lo spoilerò il libro siamo già in trattativa per un nuovo libro per cui spero nel 2021 di riuscire a farlo uscire. Quindi farai una live su questo nuovo anno? Guarda Vale un po' l'ho fatto prima un po' prima quindi questo sarebbe un po' la live però sì adesso vediamo se da qua al 30 ci sono altre live ma voi sapete che a me piace andare live. Aspetta, aspetta Spuntano guro come funghi per questo chiediamo indicazione a te. Grazie Aurora. Certo, è vero, è vero ma voi ragazzi se voi vedete fuorissimo Kerberg sì lobby però guarda che funziona la sua la sua tecnica ISP come si chiama o qualcosa del genere per i disturbi di personalità tutto basato sull'analisi del transfer aperto queste robe un po'. Buongiorno grazie buongiorno a tutti buona vigilia a tutti scusate il ritardissimo di che si parla niente ci facciamo gli auguri Jenna secondo te il rapporto online con uno psicoterapeuta è ugualmente efficace rispetto a faccia a faccia Aurora sì devo ammettere che il rapporto online è molto efficace se proprio proprio per certi strumenti come l'MDR l'ipnosi magari è un po' meno efficace quindi magari in certi contesti serve meglio magari fare una seduta due sedute dal vivo e poi si può proseguire alla grande anche a distanza anche in Emilia non danno più l'agenda meglio così soldi inutili che possono essere usati altrove sono d'accordo lobby però intanto li usano male lo stesso buongiorno buongiorno anche a me è successo ho salutato ho salutato prima che finisse ah intendi la live su facebook forse a me non è mai arrivata a prescindere io l'obby la regalo da anni a mia moglie infatti mi dispiace mi dispiace più per Chiara per mia moglie che non per per l'agenda in se stessa anche perché io da 5 o 6 anni a questa parte ho deciso di usare google calendar faccio ancora fatica però i vantaggi sono incommensurabili cioè una volta succedeva così ragazzi ero per strada ma arrivava la notizia importante di scrivere qualcosa e poi arrivavo a casa magari me ne dimenticavo mica c'è sempre l'agenda con me adesso c'ho google calendar se voglio glielo dico direttamente di scrivere l'appunto è una figata sì è un casino capire quanto tu sia libero in quello che pensi fai scrive Luca sto leggendo Kahneman è illuminante per farci capire i bias sistema 1 sistema 2 grande spunto per la consapevolezza quasi quanto il tuo libro podcast grazie Luca vabbè quello è un capolavoro pesantissimo lo diciamo lo diciamo che pensieri lenti e pensieri veloci è una mazzata bello ma una mazzata anche il mio libro non sarà mister leggerezza però pensieri lenti e pensieri veloci è una vera sfida io l'ho letto prima in inglese e poi in italiano quindi l'ho assimilato ben ben forse forse è stato l'approccio dalla parte inglese dovrei rileggerlo a distanza di anni solo in italiano bravissima simona il problema è che a molti non basta la logica per superare la superstizione da ex formatrice posso dire che mi sono spesso scontrata con questo il ragionamento logico razionale scientifico viene ascoltato solo da chi ha già una mentalità orientata in questo senso i superstiziosi tendono a restare legati ai loro dogmi sono completamente d'accordo genna come stai oggi sto un po' meglio sto un po' meglio teniamo le dita incrociate grazie genna per la risposta quali sono secondo te invece i limiti dell'approccio cognitivo comportamentale che è un po' troppo schematico soprattutto i terapeuti alle prime armi tendono a essere un po' troppo schematici quindi se non rientra la terapia all'interno del loro modello fanno un po' fatica devono ecco devono essere molto bravi a concettualizzare il caso sulla base del loro modo di vedere le cose facciamo un esempio facciamo un esempio esiste un modello uno dei modelli più famosi in terapia cognitivo comportamentale che si chiama abc è superato ce ne sono altro che è solo un esempio per tutti i colleghi all'ascolto abc sta per antecedente convinzione e comportamento quindi diciamo che se un paziente arriva da te e mi dice ho paura tu gli chiedi bene cos'è che ti provoca paura no? e com'è che ti comporti quando ti provoca paura e soprattutto che cosa pensi che ti accadrasse in altre parole vado a cercare l'antecedente dell'evento il comportamento che sono cose abbastanza esplicite e poi la cosa meno esplicita la convinzione la vista per belief no? convinzione e se però io non riesco a formulartelo io da paziente non riesco a formularti le cose in base ai miei antecedenti o in base alle mie convinzioni o in base ai miei comportamenti un terapeuta alle prime armi ripeto un terapeuta competente sa come sviare questa cosa fa fatica a farlo rientrare in quel contesto questo vale un po' per tutte le psicoterapie un po' strutturate però il cognitivismo ha una certa rigidità perché deve rispettare determinati dogmi non dogmi ma paletti ecco che gli consentano di continuare a essere uno dei modelli psicoterapeutici più scientifici in assoluto assolutamente simona simona dice per superstizione intendo ovviamente tutte le credenze boiate che circolano da anni esatto attento con queste affermazioni Gennaro che vi radiano è vero eh lo so google ha il vizio di non farsi gli affaraci suoi hai ragione lobby hai ragione eh vabbè no sarò vecchia ma l'agenda cartacea è insostituibile vabbè che il mio paradiso sarebbe una cartolibreria che bella lobby ovunque scrive Vale ho comprato pensieri lenti e pensieri veloci ma ancora non ho iniziato perché sono immersa in Yalom beh fantastico Yalom quello che hai detto dell'ammazzata mi scoraggia no vai tranquilla no no si può leggere diciamo che Yalom è tutt'altra è tutt'altra prosa e Yalom è bravissimo Yalom è uno scrittore è un romanziere romanziere si dice vabbè comunque scrive romanzi bellissimi ma anche a me piacerebbe finire la finire la mia opera divulgativa scrivendo romanzi su questo mestiere sarebbe bello bello tanto di storie ne ho a BZF quindi sì pensieri lenti e veloci è un mappazzone ma si fa leggere perché è molto interessante il tuo libro è sicuramente più fluido faccia il lettore grazie Luca sì ma davvero non si possono mettere a confronto io ho un libro poppissimo e pensieri lenti pensieri veloci è un bel libro specialistico quindi no lo so che lo fai perché mi vuoi bene chi finisce chi finisce chi finisse il guru che vuole curarmi con i poteri magici Simona la penso come te con la mia domanda ci riprovo la prossima volta l'hai saltata aiuto Camilla dove sei Camilla dai dove 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 sei che ti rispondo e poi vi saluto Camilla 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 ripostala ripostala qui sotto Camilla intanto perché io non la vedo non ci vedo Camilla non ho la tastiera non posso fare CTRLF e cerca Camilla capito Camilla sì sarò sempre divulgativo ragazzo per il nuovo arrivo ora mannaggia Erika devi subito mettere mi piace Camilla allora recuperato la tastiera CTRLF si può fare qua non so se si può fare CTRLF su sto coso qua su Spreaker capite perché questo non è internet questo è un non ti preoccupare ok non l'hanno trovata Camilla i guru si freggiano di essere neuroscienziati che uniscono modernità ad altre antiche meditazioni quindi ci si casca brava brava Patrizia Patrizia ha fatto un'osservazione super intelligente è questo che fanno i guru sentite fanno così la meccanica quantistica ha dimostrato che la nostra mente ha influenza sulla realtà perché se tu osservi un oggetto puoi modificare il fatto che questo sia visto come particella o come onda in altre parole la tua coscienza collassa la realtà quindi se mediti immaginando che ti arrivino milioni di euro questo succederà perché anche la realtà esterna è fatta di energia e se il tuo pensiero può influenzare la realtà ti basta crederci forte forte affinché tutto l'universo trami di nascosto affinché ti arrivino tutti quei soldi che è come dire esiste la forza di gravità quindi esiste satana ok cioè è un pensiero del genere è unire una cosa vera ad una cosa fasulla esistono gli angeli e quindi anche l'uomo può volare oh no scusate questa è una cazzata tutta quanta esistono gli aerei e quindi l'uomo può volare ma non nel senso che può volare volendo può volare o così esistono gli uccelli che hanno le ali gli uccelli sono veri sono esseri viventi quindi anche l'essere umano potrà un giorno volare non so se è così fanno sempre così esattamente tipo visto che se io butto dentro una scatola una frequenza di un certo hertz da un lato la frequenza di un certo hertz dall'altro questa scatola entra in risonanza e vibra a determinati hertz visto che il nostro cervello produce hertz se io butto questi hertz dentro il cervello la calotta cranica entra in risonanza e posso determinare lo stato di coscienza passando dagli hertz questa è la supercazzola dei suoni binaurali che non funzionano perché in questo momento gli hertz che passano dal mio computer dovrebbero entrare in risonanza con la mia testa e io dovrei esplodere perché va a due punto qualcosa gigahertz che le mie onde cerebrali non raggiungeranno mai bravissimo lobby la meccanica quantistica ha senso solo a livello atomico e sub atomico il resto è meccanica quantistica esatto cioè tu dici la la fisica normale esattamente il resto è è fisica è fisica newtoniana il resto cioè è quel forte forte che convince poco esatto cosa pensi invece della fisica quantistica si potrà unire la neuroscienza alla psicologia beh sì sicuramente già ci sono degli studi però riguardano dei macchinari non riguardano le teorie che vengono fuori mettendo insieme non so le idee di penrose con capite con la sincronicità di jung con la tua coscienza fa collassare la realtà sì loana no in realtà la coscienza fa collassare l'onda si dice cioè in altre parole per dirlo in modo brutto e sbagliato in questo momento voi avete un campo fenomenico che non vedete che ha le vostre spalle ok non lo vedete non giratevi non giratevi ci salutiamo così ok non giratevi avete questo campo fenomenico alle spalle finché voi non vi girate il muro ad esempio finché io non mi giro il muro alle mie spalle secondo la meccanica quantistica potrebbe non esistere in forma di particella ma potrebbe essere semplicemente onda cioè la realtà è composta sia da particelle che da onde solo che la meccanica quantistica dice che questi due stati possono sovrapporsi e quando è che io trasformo tra virgolette il muro alle mie spalle in particella quando mi giro lo guardo con la coscienza cioè come dire che tutta la realtà intorno a me è un videogioco finché io non la guardo che se ci pensate è l'apoteose dell'individualismo allora vuol dire che mia moglie che è nell'altra stanza sta camminando nel vuoto non so se riesco a far capire questo messaggio un po' strano capite che questa è l'apoteosi dell'individualismo capito se io non vi vedo voi non esistete Simona Lobby Loana Marco Alessio voi in realtà non esistete perché io non vi vedo bravissima Simona ai gatti di Schrödinger leggi bene ho scritto che il resto è una meccanica quantistica con l'accento sull'A ah non l'avevo non l'avevo visto è A meccanica dove è? ah quantistica ho capito non l'avevo capita ma secondo te invece quali potrebbero essere le prossime scoperte scientifiche in campo psicologico? beh molte saranno legate alle neuroscienze saranno legate alla scienza della contemplazione sapete per anni noi ci siamo rivolti all'inconscio e ora di rivolgerci alla coscienza alla coscienza non dal punto di vista filosofico ma dal punto di vista proprio applicativo come stiamo facendo con la meditazione e quant'altro eh sì ma scusa Genna questa cosa io la pensavo da bambina come tutti i bambini credevo che esistessero le cose solo perché le immaginavo e beh ma è per questo che chiappa tantissimo ragazzi questa roba acchiappa tantissimo sei tu Patrizia che costruisci il tuo mondo pensandoci sei responsabile di tutto in parte anche del coronavirus questa è la minchiata di chi arriva tra virgolette a dire delle cose un po' strano no? è tipo il discorso dell'albero che cade e nessuno lo sente quindi non fa rumore certo Daniela brava è qualcosa di simile è qualcosa di molto simile ragazzi io vi ringrazio per essere stati qua anche questa mattina in molti mettete mi piace condividete questa puntata e che dire ah c'è una puntata bellissima lunedì del podcast una puntata incredibile perché è la prima puntata che faccio completamente abbraccio ma vi assicuro che è molto bella parla di meditazione parla di uno studio scientifico che suddivide lo stato di sati dallo stato samadhi quindi ancora ipnosi e meditazione a confronto l'ho fatta tutta a braccio secondo me è venuta molto molto bene per cui auguri a tutti buona vigilia a tutti mettete mi piace condividete questa puntata e insomma che che la forza sia con voi e comunque se sicuramente fosse dimostrabile qualcosa che adesso sembra supercazzo allora sarebbe diverso e quindi in certe cose è meglio che dire che adesso non è dimostrabile rimanendo aperto assolutamente d'accordo Luca ragazzi grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti